75 anni muore investito da un'auto. È accaduto in una viale Manzoni a Campobasso. Il pensionato era a passeggio con la moglie quando è stato travolto dall'auto guidata da un giovane. Indaga la polizia per certare l'esatta dinamica. Nuove minacce di morte a Italo Testa. Il presidente del forum in difesa della sanità pubblica ha ricevuto un'altra lettera minatoria. Ti spacchiamo la testa, c'era scritto. Ha denunciato ancora il fatto ai carabinieri. Rilancio ITR a rischio terzo tentativo. La società che controlla la OTI ha chiesto il concordato preventivo. I sindacati sono scettici sulle rassicurazioni in merito al piano industriale per far ripartire l'azienda. Campobasso, Movimento 5 Stelle critica modifiche a nuova scuola. Sembra un carcere, dicono i consiglieri comunali pentastellati. È peggio di un canile. Il riferimento è al progetto dell'edificio in via Sant'Antonio dei Lazzari. Domani lupi in ritiro al via Stagione Rosso-Blu. Per il Campobasso si parte con la preparazione nelle marche e il sogno del ripescaggio in Lega Pro. La società ci crede. Buongiorno dalla telegiornale di Telemolise. Lo avete sentito nei titoli. In primo piano c'è la cronaca con la morte di un pensionato. È stato investito ieri sera da un'auto in via Le Manzoni a Campobasso. I particolari nel servizio di Tonino Danese. Non ce l'ha fatta Cesare Barisciano. Il 75enne che ieri sera intorno alle 22 era stato investito lungo viale Manzoni a Campobasso nel tratto che confina con Ferrazzano. Il suo cuore ha cessato di battere poco prima dell'una. Le sue condizioni erano subito apparse gravi quando sono arrivati i soccorsi. Il 118 trasportato d'urgenza in ospedale non c'è stato nulla da fare per lui. Passeggiava con la moglie quando è stato investito da un'auto guidata da un giovane e un ventenne. Indaga la polizia stradale che sta vagliando la posizione del ragazzo, la velocità, le sue condizioni, la dinamica di quanto accaduto. Il corpo del pensionato e all'ubitorio del Cardarelli la procura come da prassi ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Un bambino di sei anni è stato investito questa mattina al lido di Campomarino e trasportato con un codice 3 al pronto soccorso dell'ospedale Santimotio di Termoli. Qui i medici dopo i primi accertamenti hanno disposto il trasferimento del piccolo all'ospedale di Pescara per maggiori accertamenti. Il bambino che vive nella provincia di Salerno era in vacanza con la famiglia a Campomarino. Cambiamo argomento. Italo Testa, presidente del forum in difesa della sanità pubblica, ha ricevuto un'altra lettera minatoria in cui è stato minacciato di morte. Parolacce, ingiurie e una frase inquietante. Ti spacchiamo la testa con una roncola affilata. Ci ha riferito dopo essere andato ancora una volta a denunciare il fatto ai carabinieri. Una lettera senza mittente è lasciata nella cassetta della posta che Testa ha trovato al rientro dopo un periodo fuori regione. Qualche mese fa aveva ricevuto un'altra lettera con minacce di morte. Questa volta, ha detto Testa, era scritta in corsivo, sempre con errori di grammatica. Forse la stessa mano dell'altra volta a scriverla. Le ipotesi sono tante. Certo, la cosa non fa piacere. Si ha la sensazione di toccare nervi scoperti. Ha continuato Testa che con il forum continua la sua battaglia contro lo smantellamento della sanità pubblica, la sua privatizzazione e i piani operativi. La prossima settimana l'ex primario del Cardarelli ha intenzione di convocare la stampa per parlare anche di queste vicende. Sanità. Questa volta la bocciatura per frattura arriva dalla Corte dei Conti. La requisitoria del procuratore Manfredi Selvaggi mette il dito nella piaga. Solo grazie al contributo di solidarietà delle altre regioni, 30 milioni di euro, è stato possibile coprire il disavanzo. Il Molise, ha proseguito, continua a produrre deficit di gestione e solo per il contributo di solidarietà non sono scattate le sanzioni previste. Ce ne parla in questo servizio Pasquale Di Bello. Le ultime immagini di Paolo Di Laura Frattura ce lo mostrano in mutandoni, maglietta e scarpe da tennis impegnato per scopi filantropici nel corso di una partita a tennis insieme al comico Gene Gnocchi. Queste sono le ultime immagini liete e gioconde, prima dello smash rifilatogli dal procuratore regionale presso la Corte dei Conti Carlo Alberto Manfredi Selvaggi. Nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione Molise, Manfredi Selvaggi ha pronunciato una requisitoria che ha fatto sobbalzare dalla sedia il governatore del Molise. Uno smash, un colpo effettuato sotto rete dall'alto al basso, proprio come al gioco del tennis che ha fatto barcollare il presidente della regione. Pur con il consueta plomba all'inglese che lo contraddistingue e la consueta sobrietà e misura, il procuratore ha messo il dito nella piaga, a cominciare da quella più purulenta, la piaga chiamata sanità. La copertura del disavanzo, scrive Manfredi Selvaggi, è stata possibile solo grazie al contributo di solidarietà delle altre regioni, 30 milioni che hanno coperto il disavanzo pari a 27 milioni di euro. Solo per questo, dice sempre il procuratore, non sono state applicate le sanzioni previste in caso di disavanzo. Comico il commento di frattura, così come riportato dall'Ansa. Il disavanzo è stato programmato, ha detto e poi ha aggiunto con sprezzo del ridicolo, si prevedeva di chiudere con un disavanzo di 30 milioni di euro, 25 per il 2016 e 18 per il 2017. Forse un dato che non è stato colto per la sua importanza. A fargli eco è sempre Manfredi Selvaggi, terzo imparziale come deve essere un magistrato. La regione molise continua a produrre rilevanti deficit di gestione, una pietra tombale sulla vicenda che, come molte altre, è fatta di annunci, promesse, chimere e miraggi che per i molisani sono diventati allucinazioni. Sul disavanzo sanitario, come sulle società partecipate, come sul pasticcio delle leggi regionali impugnate davanti alla Corte Costituzionale, l'analisi del procuratore regionale presso la Corte dei Conti non ha fatto né ribassi né sconti, dimostrando ancora una volta che questa regione, così com'è, è destinata ad inabbissarsi. Intanto il governatore Frattura comunica che è stato autorizzato l'accesso alla liquidità straordinaria per 70 milioni di euro circa, che, ha detto, sommati ai 175 autorizzati lo scorso febbraio garantiscono il saldo per la copertura del debito sanitario al 31 dicembre 2014. Il tutto senza aumentare tasse, ha dichiarato il commissario ad acta. Frattura, ancora una volta, dopo quasi tre anni di suo governo e di tagli e inefficienze contestategli da più parti, non ha mancato di giustificarsi attaccando e sostenendo di non poter usare queste risorse per efficientare il servizio sanitario, in quanto deve saldare il debito contratto da chi lo ha preceduto. Intanto la protesta nei confronti di Paolo Frattura, in regione di cittadini e operatori del settore, è diffusa contro il suo piano operativo e quello che è definito smantellamento della sanità pubblica in favore del privato. Rischia di tramontare il terzo tentativo di rilanciare la ITR. La società che controlla la OTI ha infatti chiesto il concordato preventivo. La IKF, in una nota, ha assicurato che il piano di rilancio industriale dell'azienda di Petoranello non subirà alcuna conseguenza, ma i sindacati sono scettici. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. I sindacati del settore testile non nascondono la loro preoccupazione. L'ennesimo tentativo di rilanciare la ormai defunta ITR rischia di naufragare. Il campanello d'allarme è suonato quando si è appreso che la IKF, la società di investimenti che controlla la OTI, ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo per via di alcuni contenziosi legati alla cessazione di attività di altre due aziende del gruppo. Si teme che questa decisione finisca per travolgere anche la società di Petoranello, che a sua volta si trova a fronteggiare una situazione delicata, spiega Francesco Di Trocchio, segretario provinciale di Sernia della Femme Cacisl. Siamo preoccupati perché OTI rappresentava il trampolino di lancio della vecchia ITR. È chiaro, i numeri non sarebbero stati quelli della vecchia ITR, ma poteva essere prodromico di un'inversione di tendenza, quindi di poter ricreare occupazione, lavoro e rilanciare la filiera. Indipendentemente dalle difficoltà di IKF ci risulta che OTI abbia problemi di carattere finanziario, pare che ci siano delle pendenze con la procedura di liquidazione della ITR e ci risulta che anche gli stipendi siano in costante ritardo. Attualmente la OTI impiega circa 40 dipendenti per lavorare su due marchi, ma segnali di una possibile crescita non si intravedono all'orizzonte. Di diverso avviso la IKF. In una nota, oltre ad annunciare un incontro chiarificatore per settembre, ha rassicurato i sindacati, precisando che l'obiettivo della richiesta di concordato preventivo è proprio quello di mettere a riparo da rischi il piano di rilancio industriale della OTI. Ma i sindacati sono scettici. Ma le rassicurazioni da parte di IKF non vi convincono più di tanto? Sono formali come quelle che proponeva Bianchi e poi abbiamo verificato le sorti della ITR Targata e Bianchi. Noi ci auguriamo che OTI faccia un salto di qualità e che quindi mantenga i livelli occupazionali e che addirittura ci sia una prospettiva di aumentare questi numeri perché la provincia di Sernia, la città di Sernia è veramente in uno stato di disperazione. In questo momento c'è un dramma occupazionale ma man mano che finiranno gli ammortizzatori sociali ci sarà un dramma di carattere sociale perché le famiglie non avranno più sostegno al reddito e la politica dovrebbe rendersi conto di tutto questo ed accelerare la tempistica per il riconoscimento dell'area di crisi e le risorse contenute nel riconoscimento dell'area di crisi. Resta sempre alta l'attenzione sul tema della sicurezza degli edifici scolastici. I consiglieri comunali di Campobasso del Movimento 5 Stelle criticano le modifiche apportate al progetto della scuola di via Sant'Antonio dei Lazzari. Sembra un carcere, peggio un canile. Hanno denunciato, ce ne parla in questo servizio Anna Maria Di Matteo. Non molla la presa il Movimento 5 Stelle sul tema della sicurezza degli edifici scolastici. In piena estate sotto un sole rovente i consiglieri comunali di Campobasso hanno organizzato una conferenza stampa davanti ai cancelli della scuola di via Sant'Antonio dei Lazzari, la struttura che a settembre ospiterà gli alunni della primaria di via Crispi. I lavori per il completamento dell'edificio vanno avanti ma i consiglieri 5 Stelle contestano le modifiche apportate al progetto originario e definiscono la nuova scuola una sorta di carcere circondata da muri e cancelli e da una vera e propria colata di asfalto senza un albero, un minimo di spazi verdi. Siamo qui oggi invece per denunciare un fatto gravissimo accaduto qualche giorno fa, ovvero abbiamo visto questa scuola essere circondata da una colata di asfalto. La cosa ci è sembrata strana, abbiamo verificato facendo accesso agli atti e abbiamo puntualmente visto che il progetto originario di qualche anno fa risalente alla vecchia amministrazione prevedeva così come norma in una scuola materna prevedeva tutte le aree esterne attrezzate a verde, quindi una scuola che aveva anche un impatto estetico e pedagogico importante e sicuramente idoneo. Invece con perizia di variante di aprile 2016 la Giunta Battista ha ritenuto opportuno approvare questa vergogna perché veramente non si può definire diversamente perché una scuola materna non può essere concepita in questo modo. Una colata di asfalto che rende l'intero piazzale completamente inaccessibile ai bambini, ci saranno esalazioni, ci saranno temperature impraticabili ma soprattutto quello che vogliamo è che il sindaco spieghi e l'assessore Maio spieghi alla città di Campobasso i motivi di questa modifica perché dalle relazioni annesse alla perizia di variante non c'è alcuna traccia di una motivazione. C'è anche la vicenda delle indagini geologiche? Sì, in qualche modo potrebbe entrarci anche questa vicenda perché stranamente e contrariamente alle leggi il costruttore che sta realizzando questa scuola ha offerto ovvero regalato all'amministrazione i rilievi e le indagini geologiche. La legge invece prevede che sia l'amministrazione a commissionare e ovviamente pagare le indagini geologiche proprio per garantire quella neutralità, quel ruolo di controllore che non deve coincidere come in questo caso col controllato. Questa scuola è una scuola sicuramente che non mette il bambino al centro del progetto. Quelle che devono essere degli aspetti migliorativi, quindi degli indagini migliorativi, migliorativi non sono e ci preme in qualche modo sottolineare che probabilmente almeno la prima variante, quella che è intervenuta sulla recinzione esterna, diciamo una recinzione contenitiva, probabilmente se ci fosse stata la relazione geologica, quella prevista per legge che in qualche modo è latitante, non sarebbe stato necessario intervenire in questo senso. Questo non lo potremo mai scoprire, purtroppo queste deficienze progettuali ci hanno portato a quello che oggi stiamo denunciando. Sono state indette per il 31 agosto le elezioni del Presidente della provincia di Campobasso per il rinnovo del Consiglio provinciale. Ieri all'albo dell'ente è stata pubblicata la disposizione presidenziale. Le liste potranno essere presentate dalle 8 del 10 agosto sino alle 20 del giorno seguente presso l'ufficio elettorale dell'ente in via Roma. Sono elegibili al vertice della provincia il Presidente e i consiglieri uscenti e i sindaci degli 84 comuni con mandato che non scada nei 18 mesi successivi al voto. Possono invece votare i sindaci e i consiglieri comunali in carica nella provincia di Campobasso. Si è concluso con l'assoluzione per i reati più gravi il processo Open Gates, l'inchiesta della Procura di Larino sui presunti sversamenti di fanghi industriali nelle campagne del Basso Molise. Secondo i giudici i fanghi non erano tossici. Antonio del Torto condannato per falso insieme ad altri due imputati per irregolarità su un certificato. Manuela Iorio. Si è concluso con diverse assoluzioni e tre condanne per falso l'ultimo filone del processo Open Gates, l'inchiesta della Procura di Larino su presunti sversamenti illegali di fanghi industriali nei terreni del Basso Molise che nel 2010 fece molto scalpore, decapitando i vertici dell'allora Cosib di Termoli. L'ex Presidente Antonio del Torto, responsabile anche della Inside, la società che si occupava dello smaltimento dei rifiuti, è stato condannato a un anno e due mesi, pena sospesa per irregolarità su un certificato, così come l'agronomo Michele Sottile e la segretaria di Del Torto Rossana Catelli. Sono invece cadute le accuse più gravi sui reati ambientali dopo un lungo processo ricominciato più volte e divirso in diversi filoni. Per il collegio di giudici del Tribunale di Larino, Vezzi, Dagnone e Di Niro, i fanghi prelevati dal depuratore industriale di San Salvo e smaltiti nelle campagne basso molisane dalla Inside di Del Torto non erano inquinati, dunque per il reato ambientale il fatto non sussiste. Assolti sempre con la stessa motivazione anche gli altri imputati. Elio Scurti, all'epoca direttore tecnico del Conib di San Salvo, dal cui impianto partivano i fanghi, il tecnico Arpa Giovanni Del Torto, l'agricoltore Giuseppe Caruso, il tecnico Giuseppe Moffa e il funzionario regionale Michele Serago. Tutti erano stati rinviati a giudizio a vario titolo per illecito smaltimento di rifiuti, corruzione, concussione, falso e abuso d'ufficio. Nel corso del processo i reati si sono in parte prescritti e in gran parte sono venuti a cadere. Antonio Del Torto era già stato assolto insieme con l'ex governatore Michele Iorio per l'altro filone di Open Gates in relazione alla sua nomina al vertice del COSIB e condannato a un anno e sei mesi invece insieme all'ex consigliere Francesco Di Falco per la questione delle pressioni politiche messe in campo per far cadere l'ex sindaco di Termoli Vincenzo Greco. E' stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio un 32enne di Sernia, gestore di una pizzeria. Fermato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile per un controllo è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina. Secondo gli investigatori erano destinate al mercato locale dello spaccio. La droga è stata sequestrata mentre nei confronti del giovane è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai fornitori e ai destinatari dell'eroina sequestrata. A Cantalupo infine i militari dell'arma hanno denunciato uno studente di 20 anni trovato in possesso di alcune dosi di marijuana. I 606 migranti giunti nelle ultime ore a Vibo Marina, per lo più somali, eritrei e nigeriani, saranno trasferiti secondo le disposizioni ministeriali in diversi centri d'accoglienza in tutta Italia, tra cui anche il Morise. A Vibo Valencia rimarranno i minori non accompagnati. Giornata di solidarietà a Termoli dedicata all'acquisto di un pulmino per i ragazzi disabili del centro socioeducativo San Damiano. Ospite dell'evento, Gene Gnocchi, che con la sua comicità ha richiamato un pubblico sensibile e numeroso anche per la sfilata di moda realizzata con gli abiti disegnati dagli utenti. Ce ne parla Fabrizio Occhionero. Una giornata intensa e dedicata alla solidarietà. Tutto è partito dai genitori dei ragazzi disabili che frequentano il centro socioeducativo San Damiano di Termoli, una struttura appunto di riferimento che propone numerose attività. Protagonista Gene Gnocchi con la sua comicità e il suo stile inconfondibile. Prima tappa al parco comunale dove l'artista ha affrontato sul campo da tennis il sindaco sbrocca e il governatore frattura. Questo il verdetto. Beh, diciamo che col sindaco l'ho massacrato e invece il presidente della regione l'ho triturato proprio. Quindi non c'è stata proprio partita. Mi stupisco che la regione molise nel tennis sia così indietro. Io due personaggi così non li avrei mai votati. In serata cena di beneficenza alla Calasveva di Termoli, obiettivo delle iniziative del San Damiano Day, raccogliere fondi per acquistare un pulmino per gli utenti del centro gestito dalla cooperativa Sirio. In tanti hanno partecipato, prima di seguire dalla spiaggia ai piedi del castello, una sfilata di moda molto particolare. Gli abiti in passerella sono stati disegnati dagli stessi ragazzi del centro San Damiano, i quali in tal senso hanno esternato espressioni artistiche significative. Al termine della sfilata, Gene Gnocchi è salito sul palco per uno spettacolo di cabaret fatto di sketch esilaranti e delle gag che lo contraddistinguono. Il messaggio è che non devono mai sentirsi soli perché c'è della gente che comunque ha ancora la voglia di pensare a loro. Quindi l'importante è farli sentire amati, accuditi e considerati, questa è la cosa fondamentale. Entusiaste le famiglie dei ragazzi del centro San Damiano. Abbiamo pensato di fare questa associazione, cosa che mancava qui nel Basso Molise. Siamo tutte unite e compatte, speriamo di arrivare realmente a un dunque che sarebbe di realizzare e di comprare un pulmino per questi ragazzi disabili. anche perché abbiamo dei carrozzati che non hanno mezzo di trasporto e quindi stiamo facendo questo grande evento stasera proprio a nome di tutto il centro San Damiano per realizzare questa cosa. Un pubblico foltissimo e attento a Sepino assistito alla settima edizione della rievocazione dei martiri di Santa Cristina. Quadri recitati di grande impatto emotivo che sono stati portati in scena nello splendido centro storico del paese. Tanti gli emigrati che sono tornati appositamente per questo evento che lega i sepinesi nel mondo con un filo indissolubile. I festeggiamenti solenni fino al 25. Ce ne parla in questo servizio Valeria Farina. Un pubblico folto e attento ha follato le strade vicoli del centro storico di Sepino in occasione della settima edizione della rievocazione dei martiri di Santa Cristina. Quadri recitati che rappresentano una proposta originale per riportare all'attenzione dell'attualità le prove durissime a cui è stata sottoposta in vita la Santa a causa della sua scelta di rinnegare il paganesimo ed abbracciare la religione cristiana. Una devozione quella per Santa Cristina che accomuna i sepinesi in ogni parte del mondo come spiega il parroco. Santa Cristina è importante per Sepino ma anche per tanti altri luoghi. I sepinesi soprattutto quelli che vivono qui a Sepino. Noi abbiamo anche l'immigrazione quindi anche i nostri emigrati che stando lontano si ricordano di Santa Cristina. Tanti bambini e ragazzi tra i figuranti, l'esperienza e la guida degli adulti, l'entusiasmo dei giovani nel costruire e condividere con amore una festa che è di tutti. Ci siamo chiesti sette anni fa quasi giocando e scherzando come poter far conoscere la nostra devozione, come esternarla al resto della regione e al resto del mondo. Allora sono nati i martiri di Santa Cristina, una manifestazione che negli anni ha preso sempre più piede, sta coinvolgendo questa manifestazione sempre più persone e unisce un po' di tutto il folklore, la religione. Piazza Nerazio Prisco, forse mai così grimita, ha colto l'ultima toccante scena dei martiri. Commovente e commosso il ricordo dei componenti del comitato e del gruppo di figuranti del professor Maurizio Ferrante, motore dell'iniziativa Fino allo scorso anno, prematuramente scomparso proprio recentemente. Fino al 25 giugno la festa continua con tanti appuntamenti solenni e di spettacolo. Oggi e domani spazio alle bande come da tradizione con il Gran Concerto della Domenica. Lunedì il culmine dei festeggiamenti religiosi e in serata l'atteso concerto di Clementino. E domani sera a Ielsi il premio internazionale La Traia, Etnie e Comunità. Il riconoscimento quest'anno andrà alla famiglia Colantuono che porta avanti la tradizione della transumanza. Tonino Danese ne ha parlato con l'ideatore e direttore della manifestazione Pierluigi Giorgio. Il premio internazionale La Traia, Etnie e Comunità è giunto alla nona edizione. Domani sera a Ielsi. L'ideatore e il direttore dell'evento è Pierluigi Giorgio, sostenuto dal Comune di Ielsi, dal Comitato Sant'Anne e dall'Associazione Gli Orsi Volanti. Quest'anno molta molisanità. Sì, quest'anno il premio si tinge di molisanità. Dopo aver toccato altre regioni e soprattutto altre nazioni, con gente nota e gente meno nota, quest'anno ho sentito di dare il premio in una maniera veramente meritoria ad una tradizione, ad una famiglia che ancora perpetua questa tradizione nonostante le difficoltà, la famiglia Colantuono, in transumanza, dico io, di Frasolone. Ecco, come si svolgerà la serata di domani? Alle 19.30 in piazza c'è la solita commemorazione, si scopre la ceramica, con il nome del premiato, sotto l'albero della pace. Poi alle 20.30 inizia proprio la serata vera e propria della premiazione, dove vi saranno anche naturalmente musiche, canti, quindi c'è Giulia Capolino in concerto, una voce molto particolare, poi letture, documentari. Verrà dato anche un premio, un riconoscimento speciale a Mario Borraro, che è una persona, tra virgolette, una persona che si è inventata pastore, lo fa molto bene, ma anche lui va avanti nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli che gli vengono posti durante il cammino e lungo il cammino. Oggi e domani si svolge la storica targa del Matese, che vede impegnate auto d'epoca provenienti da tutta Italia. Il patrocinio del comune di Campobasso e c'è anche uno speciale annullo filatelico, l'organizzazione del Classic Car Club Molise. Questa mattina l'accredito delle macchine, lungo corso Vittorio Emanuele, quindi la partenza e l'inizio della gara di regolarità con strumentazione libera. Nel pomeriggio visita guidata a Pietrabbondante e quindi altre gare con l'arrivo, di nuovo a Campobasso, alle 19 del primo concorrente, sempre sul corso Vittorio Emanuele. Il percorso di gare è articolato lungo le strade molissane, con l'intento di far conoscere il territorio. Hanno spiegato gli organizzatori. Trenta le prove oggi, così come anche domani, a partire dalle 9.30, con partenza dall'hotel San Giorgio, alle 9.30 e rientro intorno alle 12.30. Poi le premiazioni. 190 i chilometri del tragitto, con una media imposta non superiore ai 40 chilometri orari. All'abbazia di San Vincenzo al Volturno si è conclusa la diciassettesima edizione del concorso pianistico internazionale Città di Rocchetta. Vediamo come è andata nel servizio della nostra redazione di Sernia. Un'avventura nata quasi per gioco nel 1999, ma oggi quel progetto, concepito dalla Proloco di Rocchetta, presieduta da Antonio Virgilio, non solo è diventato un appuntamento fisso nella Valle del Volturno, ma richiama anche tanti talenti appassionati da tutta Italia e dall'estero. Nello scenario dell'abbazia di San Vincenzo, anche quest'anno ha riscosso ampio interesse e apprezzamento il concorso pianistico internazionale Città di Rocchetta, alla sua diciassettesima edizione, la cui direzione artistica è stata affidata ad Alessandra Rossi del Conservatorio Perosi di Campobasso, tra gli ospiti della manifestazione anche l'abate di Monte Cassino, padre donato Ogliari. Ma ecco i vincitori delle varie categorie. A Samuele Giovanni Valenzano è stato assegnato il premio Maria Lombardi Regine, a Francesca Sinibaldi è stato attribuito il premio San Vincenzo al Volturno, mentre Sergio Costa è il vincitore della categoria premiata da Lions Club Isernia. Il premio del Rotary Club Isernia è andato a Daniela Manco. Per la sezione musica da camera, il premio San Vincenzo al Volturno è stato assegnato a Marco Molino e Valentina Funaro, mentre il direttore Maurizio Baghin ha ricevuto il riconoscimento della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Nessuno all'inizio credeva che una manifestazione di tale spessore culturale potesse attecchire in realtà piccole come quella di Rocchetta, e invece l'impegno degli organizzatori ha permesso di raggiungere alti livelli dal punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo, visto l'elevato numero di partecipanti. Al tempo stesso, il concorso internazionale ha permesso di mettere in vetrina l'ospitalità dei molisani e un territorio bello da un punto di vista ambientale, ma anche ricco di storia, a partire proprio dagli scavi archeologici di San Vincenzo al Volturno. Stasera il terzo appuntamento con il Festival Nazionale del Teatro Popolare della Tradizione a Campobasso. Alle 21 il Parco San Giovanni in Via Lombardia ospiterà la compagnia di Noi Cattaro, amici del teatro, che porterà in scena lo spettacolo dal titolo americano. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, è con ingresso gratuito. E questo weekend segna l'inizio delle vacanze per molti, con tanti eventi in programma. Tra questi, Beer Under the Stars, birra sotto le sterle, la festa di inizio estate in programma nella villa Casino del Duca, al vivo di Bagnoli Pietrabbondante, sulla Fondovalle del Trigno. Anche stasera, musica dal vivo, anni 70-80, è di J-Set con Raff ed un'attenzione particolare alla sicurezza. Gli organizzatori hanno infatti disposto un servizio navetta continuo da Frosolone e Civitanova del Sannio per limitare gli spostamenti in macchina da parte dei giovani di queste località. Bene, con questa notizia ci fermiamo. Ci sono le previsioni del tempo, poi il telegiornale sportivo. L'informazione torna intorno alle 15 con l'edizione Flash. Grazie dell'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.